Io non ho più parole. Te l'hanno detto che avrebbero annunciato roba nuova il 24 durante il loro panel. Eppure... Ma come si fa? Che bella la community di Nazuma Eleven. Da tutto il mondo, solo a spammare clown nella chat del TGS. Io sinceramente non mi capacito di come qualcuno possa andare a spammare nella chat del TGS clown perché hanno riservato quei 50 minuti al level 5 dove non hanno annunciato praticamente nulla. Che bello quando la community italiana e quella spagnola si uniscono per dare del clown al level 5. Complimenti! Siete voi il motivo per cui Akihi Roino ci ha mandato a cagare. Ma no, a parte queste stupidaggini. Cosa è successo di concreto? Ero a seguire la conferenza di level 5 delle 5 News che dovevano annunciare o riannunciare cose già uscite. E' stato scritto su Twitter che avrebbero fatto questo panel di 50 minuti introduttivo al TGS per annunciare roba che avrebbero mostrato. Ovvero Deca Police, Fantasy Life, Inazuma Eleven, Megaton Musashi e Leighton. No, perché Leighton uscirà nel 2024. Non si sa bene quando. Potrebbe anche uscire nel 2025, ma non lo sappiamo. E molti si aspettavano che ci sarebbe stata una data di uscita di Inazuma Eleven. Quando bastava leggere l'annuncio che ha pubblicato Level 5 in inglese, tra l'altro, su quando avrebbero annunciato qualcosa di Inazuma Eleven Victory Road. C'è tutto il panel del 23, tutto quanto il panel del 24, e nel 24 c'è annunci su Inazuma Eleven Victory Road alle due giapponesi, che sarebbero più o meno le sei italiane. Quindi non abbiamo scusanti per quello che abbiamo fatto, o meglio, quello che avete fatto, perché io non mi voglio identificare con quel tipo di persona, nella chat. Tra l'altro chat del TGS, non chat di Level 5. Era una chat del TGS, si sono ritrovati i clown in chat, ma secondo me neanche era moderata quella live. Ma comunque. Capisco che quando c'è tanto hype per un gioco, si possa un attimino andare fuori di testa e scrivere l'annuncio della data di uscita di questo gioco, e poi ci perdiamo le informazioni che abbiamo sotto il naso, tipo appunto, ragazzi, News il 24, il 21 è solo un panel introduttivo, a quello che abbiamo già fatto vedere. Quindi cos'altro abbiamo? Data di uscita quasi sicura, quasi certa, per Fantasy Life e Deca Police nel 2023, mentre Inazuma Eleven e Megadon Musashi se ne riparla quasi certamente nel 2024. Perché far uscire due giochi dalla stessa casa in tre mesi è tantissimo lavoro e tantissimo dispendio di energie, e ti occupi praticamente due mesi almeno ti occupi. Inazuma Eleven era quasi certo che sarebbe stato rimandato, visto che non hanno più fatto vedere il generico 2023 nel loro ultimo trailer, nei loro ultimi trailer, e soprattutto sul blog hanno scritto ragazzi stiamo in ritardo con la produzione, ma procede spedita, quindi dovrete aspettare ancora un po' prima di avere il gioco, che vuol dire non esce il 2023. Megadon Musashi stessa cosa, non esce nel 2023, hanno cancellato il 2023, anche se Megadon Musashi non l'hanno mai annunciato per il 2023, quindi... tant'è. Il 24 ci sarà un altro video, dove passerò in rassegno tutte quante le notizie più interessanti, e ve le darò in pasto. Ci sarà una data? Non ci sarà una data? Non lo sappiamo. La data non è più sicura il 2023. Stiamo procedendo con i lavori, vi daremo nuove informazioni il 24 settembre, leggetevi questa immagine che illustra il programma che faremo al Tokyo Game Show. Detto questo, andate in pace.